Simone De Blasi, organizzatore insieme ovviamente a tutto il circuito dell'M2 di Campodipietra di questa manifestazione che si darà il 5 e 6 luglio M2 senza frontiere, la sfida dei comuni, in che cosa consiste? Esatto, ci siamo voluti rifare proprio al gioco degli anni 70-80 che sono i giochi senza frontiere, grandissimo show televisivo ed erano già un po' di anni che pensavamo di volerlo riproporre, quest'anno ci siamo messi in impegno e abbiamo realizzato questa cosa e abbiamo deciso di coinvolgere i comuni limitrofi e non solo, quindi abbiamo contattato le varie prologue, le varie amministrazioni e abbiamo avuto anche una bella risposta, al momento sono 7 i comuni che si sono iscritti, inizialmente ce ne erano un po' di più però riuscire a creare la squadra in un periodo del genere non è stato semplice però come partenza, come prima edizione sono i 7 comuni composti da 10 elementi per squadra, insomma un bel numero e si tratterà come dicevo di due giornate intense dove si susseguiranno circa 8-9 giochi di abilità, di forza, di resistenza, di intelligenza qualsiasi tipo di prova Ripercorrendo la trama di giochi senza frontiere, sicuramente non è stato semplice, tu sei originario di Vinchiaduro Vinchiaduro partecipa e si darà in due giorni, fisicamente dove si svolgeranno questi giochi? Si svolgerà quasi, diciamo l'80% all'esterno della nostra struttura, quindi tutta la parte del beach volley, il boschetto tutta la parte esterna, ma alcune prove anche all'interno, tipo prove in acqua, quindi quando è richiesta la vasca, la piscina e ci tengo a dire una cosa se posso, ovviamente le prove verranno poi valutate di volta in volta e alla fine di tutte le sfide verrà fatta una classifica per decretare il comune vincitore che avrà la possibilità, che darà anzi la possibilità a tutti i residenti di quel comune di poter usufruire di due settimane di fitness all inclusive qui nel nostro centro fitness all inclusive significa nuoto, palestra, attività di fitness, spa quindi insomma grazie alla direzione M2 che ha messo a disposizione tutto questo Quindi avete instaurato anche una certa competizione, diciamo edizione 0 con 7 comuni diciamo dell'Interland Campobassano, magari l'anno prossimo si può estendere questa iniziativa perché ovviamente il Molise è una terra che è contraddistinta da 136 comuni magari cercare di abbracciare il più possibile i centri della provincia di Campobasso perché no anche quelli di Isernia, della provincia di Isernia Assolutamente sì, l'abbiamo già fatto quest'anno abbiamo contattato tutti i presidenti di Proloco quindi non solo della provincia di Campobasso ma anche della provincia di Isernia però ovviamente riuscire ad organizzarsi velocemente non è semplice l'anno prossimo faremo sicuramente di più e cerchiamo di estendere ancora di più l'invito a quanti più comuni come diceva lei è diciamo il pilota, l'evento pilota quindi dobbiamo anche vedere un po' come andrà sicuramente andrà molto bene, sicuramente ci divertiremo tanto grazie 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 grazie